E diventiamoci! Brava Lea! Brava! Brava! Brava Lea! Sfigata! 2017, Italia. Un manipolo di giovani creativi ha occupato l'ufficio marketing di Fanta. Loro sono The Show. Eileus e la Sabri Gamer. La loro missione? Realizzare il video Fanta più divertente di sempre sui social. Beh, l'outfit alla fine l'abbiamo deciso. Bene, direi che ci siamo, bravo, bravo eh? Bravo tu, bravo tu, bravo tu. Bravi tutti, bravo tu. E andiamo fuori alle balle, che lavoro è stato fatto. No, ragazzi, non avete ancora deciso cosa fare nel video finale. Vabbè, facciamo come l'altra volta, dai. Facciamo decidere le nostre community. Ma, in realtà io pensavo più a lungo e destenuante al lavoro di brainstorming. Però anche la tua soluzione non è male. Ok, siamo tutti d'accordo. Quali sono le proposte? Siamo proprio sicuri che siano dei grandi creativi. Hello everybody, ciao a tutti. Oggi sono qui con i miei amici, presentatevi amici. Sono Alberto, faccio l'idraulico al settimo piano. Sono Alfredo, anch'io faccio l'idraulico con lui. Sono Sabrina e mi piace la pizza. Bene, oggi li ho portati qui alla Casa degli Specchi perché è un'attrazione tipica degli anni 70. Quindi ho deciso che sarebbe stata perfetta per fare un'esperienza appunto un po'... Un po'... Floreale. Quindi come funzionerà? Allora, entreremo uno per volta. Tranne i The Show che, essendo una squadra, saranno ammanettati. Perché sennò non... Beh, è logica la cosa. Le squadre vengono ammanettate. Sì, perché se no avete dei vantaggi. Stiamo per entrare. Speriamo di divertirci. Hello everybody! Io non ho detto niente. Andiamo ragazzi, io mi perderò. 100% sure. Bisogna guardare per terra dove non ci sono gli specchi per non andare a sbattere. Vi faccio vedere come si fa un labirinto degli specchi. Adesso. Aia! Aia! Guarda quella, dov'è? Sì, perché è lì, bisognando, arriva alla fine. Ah, ma... Ma sei qua? Eeeh, amica! Allora, facciamo così. Cerchiamo di arrivare prima. Facciamo finta però che non ci siamo incontrati. Da piccoli mio padre mi abbandonava qui dentro. E rideva. C'è anche un trucco, ragazzi, che... Vediamolo. Basta che tu guardi in alto e praticamente... Cioè, guardi questa, dove non ci sono gli specchi. A casa degli specchi. Gli specchi ci saranno quattro, perché sono tutti i vetri. Chiamarla a casa dei vetri. È vero, bellissima. Sembra anche doloroso come... Sono sicura che questo qua è il posto giusto. E infatti... Infatti è proprio il posto giusto. Pensa di avere dei problemi. No, ragazzi, non sto trovando... No, ragazzi, io mi sono bloccata veramente. So dove andare, so dove andare. Sento che questa è la strada giusta. Chi è più avanti qua? Chi è più avanti qua? Allora, prendiamo dei punti di riferimento. E il mio punto di riferimento è che non ho un punto di riferimento. Ma tu ti stai davvero divertendo. Questo è il dramma. Come pensi che si possa utilizzare la casa degli specchi all'interno della festa? Cioè, tu quale uso vedi di questa cosa che tu hai proposto? Eh, la festa è tutta la casa degli specchi. Eh, esatto. Posso guidarti? Io li devo prendere per le maledze. Sì, vai. Ah! Sono arrivati anche gli altri. Adesso vado col mio istinto. Guardate il mio istinto dove mi porterà. Ciao, amici. Sono molto più avanti di voi. Ma così sto tornando indietro. Ciao, amici. No. No. No, stia, amici. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati in acqua? Siamo arrivati in acqua. Siamo arrivati in acqua. Oh no! Basta! Basta! Cercamo di capire. Ok. 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 Qui si può andare. Qui si può andare. Ragazzi. E si sta per aggiudicare la vittoria. Negli anni passati quando ero Vi spostate? Voglio passare io No, è la terza secondo me La terza è la terza E qui, di qui Lea, tu vai là? Eh, dividiamoci Brava, brava Brava Brava, brava Sfigata Cosa sta facendo? Sembri Heidi con dei problemi Una bella idea comunque Mi divertivo così almeno dal 1998 ti dirò Ce la faccio prima di lei, prima di lei, prima di lei Prima di lei No No No, no, vieni qua È Yippie Anni 60, 70, 80, 90 Grandi successi No Ragazzi la soddisfazione e la vittoria è Dove ringraziare tutti voi Dove ringraziare tutti voi perché è solo merito vostro Cosa che l'hai fatta da solo? Mi sa che non è questa l'uscita Abbiamo fatto i fighe ma ci siamo incastrati come dentro il porto Ora dobbiamo ritornare C'è solo un bilo In tutto questo mi devo accontentare della seconda posizione Ma non è ancora passato il tornello E quindi il tornello Ma è passato a Sabrina Sì 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 La Sabrina è più forte La Sabrina è più forte Sono uscita prima io Ma i tornelli Il nostro tornello è il tornello adesso Poco Due like Tre like In ogni caso come al solito lasciate un mi piace Lasciatevi anche un commento cosa ne pensate di questa nostra esperienza Fai con il like Come al solito lasciate un pollice in su e anche un commento se vi va Ma soprattutto andate a votare le nostre esperienze sulla pagina Facebook di Fanta Io ho fatto la casa degli specchi Lei ha fatto il laser game E loro il toro meccanico Votate il toro Meccanico No votate me Siete quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto Vi mando un bacio E ci vediamo al prossimo Un bacio giovani Cheers Bostateci Bostate Fatica a fare i giovani